Dopo l'istanza di fallimento presentata nei giorni scorsi dal PM per teatro e servizi, la partecipata del comune di Chieti che gestisce la riscossione delle tasse, la gestione dei parcheggi e i servizi cimiteriali, ora arriva l'ipotesi di bancarotta richiesta dal consulente tecnico del pubblico ministero Giuseppe Falasca, Emma Ioppi, commercialista di Pineto, incaricata nell'ambito dell'inchiesta per peculato continuato avviata sull'azienda. Dai documenti emerge, secondo il pubblico ministero, la profonda crisi in cui versa la teatro e servizi attestata dal disequilibrio finanziario, patrimoniale ed economico. All'occhio attento del consulente tecnico si configurano i reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, fatte salve alcune ulteriori ipotesi di violazioni, di norme afferenti ai rapporti con la Corte dei Conti o regolanti ai rapporti con la pubblica amministrazione e il maneggio di denaro pubblico. Secondo la Procura, nei bilanci relativi al 2017 e al 2018 sono stati esposti dati falsi. Per il 2017 emerge un risultato di esercizio negativo pari a meno 654.150 euro e un patrimonio netto pari a meno 367.658 euro, con la totale perdita del capitale sociale che ammontava a 100.000 euro. L'esercizio del 2018 altresì evidenzia una perdita di meno 240.000 euro e il patrimonio ammonta a meno 541.855 euro, tenuto conto del valore negativo accumulato già nel 2017. Ora l'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza pare dunque destinata ad allargarsi e decisiva sarà l'udienza in programma per il 14 aprile, quando il Tribunale di Chieti dovrà decidere sull'istanza di fallimento presentata dalla Procura, poiché i dati relativi all'attività della società esplicitano e chiariscono in modo icastico lo stato di insolvenza della teatreservizi verso il Comune di Chieti, l'impossibilità di proseguire nell'attività di impresa di tesoreria e attestano la profonda crisi economica che trova anche un suo riflesso nella confusione gestionale il cui sintomo grave è dato dall'omissione del deposito dei bilanci di esercizio per gli anni 2019-2020, omissione che a tutt'oggi risulta permanente. E intanto in extremis alcuni giorni fa, precisamente sabato, Massimo Marchetti, l'amministratore unico della teatreservizi licenziato dal sindaco Diego Ferrara, ha messo in liquidazione la società.